Giovedì 29 luglio, buongiorno a tutti e bentrovati puntuali anche in questa mattinata per l'appuntamento delle sette con la rassegna stampa. Vedete alle mie spalle le prime pagine dei quotidiani nazionali, inizieremo come sempre da lì la nostra rassegna ma per iniziare diamo uno sguardo anche al meteo, vediamo come il Friuli Venezia Giulia si sta risvegliando in questa giornata, l'insegna del sole dopo il maltempo e le piogge anche della serata di ieri. Ecco questa bella immagine che ci arriva in questo caso dal Lussari dove il termometro segna 10 gradi e 6 decimi a Tarvisio a Fondovalle 12 gradi e 9. E poi rimanendo sempre in montagna andiamo sul Monte Zoncolan 12 gradi e 3 decimi sul Monte Zoncolan, a Sappada 11 gradi e 4 decimi, 13 gradi a Forni di sopra e sempre in montagna vediamo anche 10 gradi e 8 decimi sul Piancavallo. Scendiamo adesso verso la pianura a Tolmezzo 17 gradi e 3 decimi e poi ancora a Pordenone 17 gradi e 8, 18 gradi e un decimo a Udine, a Cividale 19 gradi e mezzo, a Cervignano 18 gradi e un decimo, a Gorizia 19 gradi e 9. E poi sulla costa vediamo a Trieste il termometro che segna 24 gradi e 8 decimi, a Lignano 22 gradi e 3, con una temperatura del mare di 26 gradi e 2 decimi e chiudiamo con grado, con questa bella immagine in questo caso di appunto Lignano ma a grado 22 gradi e 3 decimi. Il cielo è sereno su tutto il Friuli Venezia Giulia, sarà una giornata l'insegna del sole. Vediamo cosa ci dicono le previsioni del tempo. Un saluto e ben ritrovati agli amici di Udinese TV da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione tenderà a rimontare sulle regioni del nord favorendo quindi una maggiore stabilità con il ritorno del bel tempo per gran parte della giornata e clima asciutto anche in montagna. Vediamo nei dettagli il Friuli dove il tempo sarà appunto stabile e soleggiato con tanto sole, solo qualche anovolamento sui rilievi nel corso del pomeriggio ma senza precipitazioni e temperature massime che torneranno a salire fino a 32-33 gradi in pianura con a fa particolarmente intensa nei grossi centri urbani specie verso sera ma anche lungo le coste. Per quanto riguarda la Venezia Giulia anche qui c'è lo sereno, tanto sole e temperature che torneranno a salire anche su quest'area con valori fino a 31 gradi sul triestino ma 32 gradi attesi su Gorizia, un clima asciutto per l'intera giornata. Dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo. E adesso iniziamo la nostra rassegna stampa dalla prima pagina del Corriere della Sera. In primo piano oggi e su tanti quotidiani nazionali troviamo le parole del Presidente della Repubblica Mattarella che ha invitato tutti a vaccinarsi. Mattarella, vaccinarsi, un dovere. Il richiamo su immunità e riforme, decisioni chiare, rinviato il decreto per scuola e trasporti, per l'obbligatorietà del Green Pass per scuola e trasporti. È il virus che limita la libertà, non le regole per sconfiggerlo, ha detto il capo dello Stato. Salvini va da Draghi, confronto sulla giustizia, l'altro tema al centro del dibattito. Per quanto riguarda la scuola e l'obbligo vaccinazione, vediamo che i presidi hanno approvato il modello francese. I presidi e la DAD, quindi la didattica a distanza, sono per chi non è immune. Piano scuola allo studio il modello francese, in caso di contagi, in DAD andranno soltanto gli alunni non vaccinati. È un'ipotesi percorribile, ammette il capo dei presidi, Antonello Giannelli, ma si punta prima a modificare il protocollo sanitario sulla gestione della quarantena. Andiamo a centropagina, dove, come accade ormai da qualche giorno, troviamo una fotonotizia che ci porta a parlare di Olimpiadi. In questo caso vediamo Federica Pellegrini, fine del bel viaggio. Ora sto con Matteo, ha detto Pellegrini, dopo la finale olimpica di ieri, che non ha portato una medaglia per la nuotatrice, ma è stato comunque un bel traguardo, quinta finale olimpica per lei, Federica Pellegrini, dopo la sua quinta finale, piange di gioia. È stato un bel viaggio, guarda al futuro senza più il nuoto. Un libro, un docofilm, conferma la storia d'amore con Matteo Giunta, il suo allenatore, un compagno speciale. Andiamo di spalla, la cronaca ci porta a Bolzano, giovane ucciso a coltellate, si segue la pista del satanismo. La vittima è un uomo di trent'anni, aveva a casa teschi e immagini del diavolo. Chiudiamo il Corriere e andiamo sulla prima di Repubblica. Compromesso Draghi Salvini su giustizia e vaccini. Il Premier vede il segretario leghista e l'invia alla prossima settimana il Green Pass per scuola e trasporti, ma ottiene in cambio un'apertura sulla riforma Cartabia. Telefonata con Letta, anche il PD favorevole alla mediazione. E poi vediamo anche qui l'appello di Mattarella a vaccinarsi. È un dovere civico e morale. Ancora andiamo a centropagina. La ricostruzione a cinque anni dal terremoto. Siamo ad Amatrice. Nella zona rossa di Amatrice arriva la prima gru. Vediamo una veduta del centro storico della città, che non c'è più, distrutto dal sisma del 2016. Nel taglio basso vediamo i leggiventi della cultura a Roma, la rinascita dell'umanesimo digitale. E poi anche qui vediamo le lacrime di gioia nel diario del papà di Federica Pellegrini. Chiudiamo Repubblica e andiamo a vedere la stampa. Anche qui in apertura le parole di Mattarella. Vaccinarsi, dovere morale. Ecco qua il titolo di apertura della stampa. Alla cerimonia del ventaglio. Il presidente richiama i partiti all'unità. La scuola è una priorità assoluta, detto il capo dello Stato. E poi l'AIFA che dice sia Pfizer e Moderna per i giovani tra i 12 e i 17 anni. E polemica per la Lega in piazza, coi, no, Vax. Chiudiamo anche la stampa e andiamo adesso sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Le parole del virologo americano, Fauci, vaccinati o no, contagiosità identica, stessa carica virale nei contagiati da Delta, secondo il virologo americano. Non se ne esce più, scrive il Fatto, ma che non effetti dopo due dosi, come dice Draghi, in America torna l'obbligo delle mascherine per tutti. Ancora, andiamo anche sulla prima pagina del manifesto. Libertà condizionata, titola il manifesto. Mattarella, la vaccinazione è un dovere morale e civile. Poi l'affondo sulle forze politiche e le proteste Novax. La libertà è condizione irrinunciabile, ma chi limita la nostra libertà è il virus, non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo, ha detto il Capo dello Stato. Intanto il Governo rinvia il piano scuola. Dal manifesto andiamo adesso sul gazzettino e vediamo in apertura anche qui l'ail rinvio delle decisioni sul Green Pass per treni e aerei. Se ne parlerà dopo Ferragosto, anche in base al trend di contagi. Il Governatore Zaia dice no a guerre di religione. Appello di Mattarella, vaccinarsi un dovere morale e civico è il virus che limita la libertà. Sempre in tema Covid, vediamo l'ordine dei medici di Padova. i nomi dei medici Novax vanno pubblicati. La posizione dell'ordine dei medici di Padova è giusto, renderli pubblici è una garanzia per i cittadini. E poi ancora un deputato trevigiano, Dimitri Coini, che dice io leghista no pass, vaccino non credo, lo farò. Sempre sulla prima pagina del gazzettino vediamo l'inchiesta che coinvolge i vertici di Grafica Veneta, Scintille in regione, Assindustria a fianco dell'azienda. Le imprese dicono meritiamo rispetto. E Camani del Partito Democratico dice serve responsabilità. Per quanto riguarda lo sviluppo delle indagini, preso il carceriere degli schiavi arrestati, tutti scelgono il silenzio. Ancora, vediamo una fotonotizia centropagina, Agata e la bufera social, offese e attacchi sessisti, Venezia Calcio contro D'Agospia, e scontro sui social e in rete tra il Venezia Calcio femminile e D'Agospia per un titolo sessista dedicato dalla testata satirica e di costume ad una giocatrice, Agata Centasso, con una serie di foto in cui l'atleta compare in bikini. Questi gli articoli principali sulla prima pagina del gazzettino. Vediamo poi nel taglio basso ancora il caso Zennaro, l'imprenditore che è ancora in Sudan, appello del fratello al governo, il tempo sta per scadere. Sul fronte, diritti televisivi, calcio, via libera, team da zone, così vedremo la serie A da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. non ci sarà nessuna misura cautelare da applicare a team e da zone. Sin dal primo agosto sarà possibile disporre dei contenuti senza la necessità di dover sottoscrivere un abbonamento con team. Le dieci partite della A saranno tutte trasmesse da zone. Chiudiamo anche questa pagina del gazzettino e rimanendo sui quotidiani nazionali andiamo sulla prima pagina del giornale che apre con questo titolo Fine di un incubo, le imprese hanno fiducia. L'indice tocca il record dal 2005, sorpassata la Germania. Draghi esasperato dalle beghe a 5 stelle e subito la riforma della giustizia. Conte fa l'anticapitalista iniquo il libero mercato. Dal giornale andiamo adesso sulla verità e vediamo a centro pagina morti e contagi, i dati dicono che col Green Pass si rischia la falsa sicurezza del passaporto Draghi. Chi ha fatto una sola dose può infettarsi e infettare e con una carica virale uguale a quella dei non vaccinati. eppure il governo rilascia un documento tanto discriminatorio quanto scientificamente senza fondamento. Questa è la posizione della verità. Ancora andiamo anche sulla prima pagina di Libero e il titolo ci porta a parlare appunto di politica. Lady Berlusconi, traditori in Forza Italia e il nostro partito non è un taxi. La fascina attacca i deputati che boicottano la linea di Forza Italia. Andate a casa. Sulla giustizia Draghi perde la pazienza con il Movimento 5 Stelle. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Sole 24 Ore e in apertura vediamo anche qui i dati sull'indice di fiducia delle imprese. La fiducia è ai massimi. A luglio record dell'indice dell'indice Istat trainato da servizi edilizia e commercio. In miglioramento anche l'indicatore dei consumatori. E poi vediamo ancora il super bonus al 110%. Ecco il modello unico ammesse le varianti possibilità possibile la variazione anzi variazione in corso d'opera basterà una relazione descrittiva. Vediamo anche la gazzetta dello sport e vediamo anche qui i titoli eh principali vediamo nel taglio alto le olimpiadi non vedo l'oro olimpiade tra delusioni e occasioni Malagò dice sì mancano medaglie pregiate ma c'è tempo i bilanci li faremo alla fine e poi vediamo anche la medaglia nella scherma la squadra femminile per la sciabola a centropagina invece il calcio Lukaku altro che Chelsea dice no al super assalto degli inglesi vuole soltanto vincere con l'Inter torneremo più tardi sulla gazzetta dello sport adesso è il momento di spostare la nostra attenzione sui quotidiani locali allora andiamo su piccolo gazzettino messaggero Veneto vediamo il gazzettino il gazzettino del Friuli come apre oggi ecco qua il dorso del Friuli c'è la cronaca nera purtroppo in apertura con un incidente stradale costato la vita a una giovane di 23 anni schianto perde la vita a 23 anni l'auto su cui viaggiava è finita in mezzo ai campi inutili i tentativi dei soccorritori di prestarle aiuto stava tornando a casa viveva a Fagania ma era originaria di San Daniele il sindaco esprime la vicinanza della città e poi ancora vediamo a centro pagina un'anticipazione delle pagine sportive l'udinese sconfitta ma in crescita nella gara di ieri contro lo Sturm Graz la pagina Covid 4 milioni in busta per i sanitari fra prestazioni aggiuntive RAR e bonus e il direttore dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Caporale dice così premiamo il personale no green pass la questura indaga sugli partecipanti alla manifestazione di sabato a Udine attese manifestazioni nuove manifestazioni di nuovo a Udine e anche a Cividale la sicurezza in borgostazione l'appello del sindaco dopo il sopralluogo dei giorni scorsi in occasione del dei lavori per il nuovo punto della polizia municipale in borgostazione il sindaco si appella mi rivolgo a tutte le istituzioni per restituire sicurezza serenità e decoro ai residenti per la pagina politico amministrativa ci sono i lavori del consiglio regionale alle prese con l'assestamento di bilancio fondi anche per la scuola per il riavvio della scuola in sicurezza ancora cronaca nel taglio basso ex missionario laico padre di cinque figli muore in etiopia paolo caneva cinquant'anni codroipese che da diciotto anni operava in europa è mancato nel paese africano a causa del covid e a causa del covid cancellato l'air show anche a lignano non si faranno neppure i fuochi andiamo nel taglio alto e vediamo ancora qualche notizia sempre sulla prima pagina del gazzettino per quanto riguarda il mondo della finanza civibank finanziamenti a famiglie e imprese in crescita del 38% nel primo semestre del 2021 e poi a Sappada con Sgarbi Corona di Centa e Fauner al festival della montagna al One Love Festival gli Africa Unite festeggeranno 40 anni di musica reggi e impegno sociale chiudiamo il gazzettino come sempre torneremo più tardi sulle pagine di questo quotidiano per dare un'occhiata assieme alle notizie sportive e adesso ci spostiamo sul piccolo il piccolo di Trieste la regione rimborsa il 10% ai soci delle Coop questo quanto previsto in un emendamento alla legge di bilancio così recupereranno l'88% dei risparmi il fondo dedicato proprio a questi interventi sale a 17 milioni domande a partire dall'autunno scrive il piccolo ancora vediamo a centro pagina la motonave ora può navigare con mare a forza 4 si tratta dell'Adriatica che opera il collegamento navale Trieste Grado di spalla vediamo una foto di Massimiliano Fedriga pacchetto scuola in arrivo lo sconto sui tamponi per i giovani e i fondi per l'acquisto di pc per il ritorno in classe però c'è ancora il nodo dei trasporti e del tracciamento da risolvere due questioni che saranno affrontate al tavolo sicurezza intanto ieri dopo un mese di tregua si è registrata una nuova vittima a causa del coronavirus aveva 78 anni chiudiamo anche questa pagina del piccolo di Trieste e andiamo adesso sul messaggero Veneto il messaggero Veneto di Udine vediamo i titoli in primo piano ecco qua nel taglio alto vediamo anche qui la notizia che abbiamo visto sul piccolo rimborsi dalla regione per gli ex soci di Copca inseriti nella manovra estiva altri 8 milioni destinati a 15 mila prestatori carnici e di cooperative Trieste la regione raddoppia il fondo a disposizione dei beffati dei crack delle cooperative carniche e triestine portando il plafond a disposizione a quota 17 milioni una cifra grazie alla quale spiega l'assessore alle finanze Barbara Zilli potremmo dare risposta all'88% del valore delle singole richieste presentate i nuovi fondi entrando nel dettaglio del provvedimento fanno parte di quello che la giunta regionale ha definito come emendamento jolly al suo interno anche 8 milioni destinati appunto ai sostegni per i 3200 ex soci e prestatori di Copca e 12 mila di cooperative Trieste andiamo a centro pagina la foto notizia che ci dice dell'annullamento dell'air show delle frecce tricolori a Lignano come aveva fatto nei giorni scorsi anche Grado a Lignano il covid cancella frecce e anche fuochi d'artificio l'air show era in programma il 25 agosto invece lo spettacolo pirotecnico il 15 ancora vediamo di spalla la situazione covid in Friuli Venezia Giulia due vittime del virus dice il messaggero Veneto non accadeva dal 29 giugno in questo caso vediamo anche la vittima di Codroipo che però è deciduta in Etiopia che abbiamo visto prima sul gazzettino trasporti aule docenti la scuola ha gli stessi nodi dell'anno scorso manca poco più di un mese l'avvio dell'anno scolastico e rispetto a un anno fa non è cambiato niente se da un lato viene assicurata la ripresa delle lezioni in presenza al 100% dall'altro restano da sciogliere gli stessi nodi del 2020 e vediamo finanziamenti per assunzioni tamponi e bus per evitare la didattica a distanza per la cronaca vediamo l'incidente mortale a Fagagna auto fuoristrada ragazza di Fagagna muore a 23 anni il segretario comunale di Codroipo sospeso per un mese Tolmezzo capannoni invasi dall'acqua il torrente fa paura e poi vediamo nel taglio basso foresta millenaria quando è il vento il peggior nemico è il vento il nemico più temibile per le foreste del Friuli Venezia Giulia lo si è sperimentato nell'ottobre del 2018 quando la tempesta vaia spazzò via boschi secolari andiamo anche sulle pagine interne del Messaggero Veneto vediamo la prima pagina del fascicolo di Udine e andiamo a vedere i titoli in primo piano l'appello del parroco del Carmine tolgono le panchine resta lo spaccio questa la posizione di Don Giancarlo Brianti parroco della Beata Vergine del Carmine di via Aquileia che commenta così la decisione del sindaco di voler eliminare alcune panchine da via Leopardi per evitare bivacchi diurni e notturni il primo cittadino eviti di tirare in ballo inutilmente i preti e la chiesa ha detto Don Brianti e questo è l'articolo che troviamo sulla prima pagina del messaggero intanto la polizia ha arrestato un 24enne in prova ai servizi perché nascondeva eroina andiamo nel taglio alto e anche qui vediamo l'appello del sindaco il comune non può fare tutto senza l'aiuto delle istituzioni il mio è un appello affinché si lavori per fare di Udine una città più bella e sicura oggi ci sarà anche un incontro del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza che affronterà tra le altre cose anche il tema Borgo stazione andiamo nella destra tagliamento sempre attraverso le pagine del messaggero Veneto e vediamo anche qui i titoli principali vediamo che le notizie in primo piano sono le stesse quindi il tema dei rimborsi ai soci delle ex cooperative della nostra regione l'Air Show a centro pagina allora andiamo di spalla e vediamo patto Sciriani lo visa per lo stadio in città incognita sito e soldi la proloco di Piancavallo debutta piantumando 700 piantine e anche qui vediamo l'incidente mortale auto fuoristrada muore a 23 anni mentre torna a casa chiudiamo questa pagina andiamo sulla prima del fascicolo di Pordenone e vediamo appunto la notizia che avevamo visto richiamata in prima pagina patto per lo stadio tra Ciriani e Lo Visa dove e chi paga i nodi da sciogliere il sindaco ha detto doveroso dare una casa in città al Pordenone Zannolini ironico felice di aver dato il mio contributo e vediamo anche vediamo anche le prime righe dell'articolo comune di Pordenone e Pordenone Calcio aprono ufficialmente un tavolo di lavoro per la realizzazione dello stadio in città una decisa accelerazione da parte dell'amministrazione comunale a poco più di due mesi dalle elezioni il sindaco Alessandro Ciriani e il presidente Mauro Lo Visa si sono incontrati ieri al centro sportivo De Marchi è il momento giusto ha dichiarato il primo cittadino una squadra di serie B e un bene troppo prezioso per la città e la comunità contribuire a darle una casa e un dovere e oggi si stanno prefigurando le condizioni giuste per farlo ragionando assieme a tutti gli enti e il Pordenone su dislocazione progetti e realizzazione ancora nel taglio alto vediamo l'assessore Walter De Bortoli che dice sul fronte basket invece il basket riparta da un'altra società continua a tenere banco nell'ambiente sportivo cittadino la rinuncia del sistema basket Pordenone a tutti i campionati di sua competenza per mancanza di fondi l'assessore comunale allo sport De Bortoli accusato dal presidente del club di non averlo mai sostenuto si sta dando da fare per salvare il salvabile e ha individuato una possibile soluzione sfumata ormai l'iscrizione al campionato di serie C gold rimarrebbe possibile quella al torneo inferiore la C silver cosa che il membro della giunta ciriani spera possa essere effettuata da un'altra società cittadina una di quelle che compongono il consorzio futuro insieme pallacanestro Pordenone e allora chiudiamo anche questa pagina del messaggero veneto di Pordenone in cui si parlava in qualche modo di sport più di vicende societarie di investimenti che di calcio basket giocato per aprire la nostra rassegna stampa sportiva in realtà come sempre prima di andare sulle pagine sportive dei quotidiani di oggi ci colleghiamo con il ritiro dell'Udinese andiamo a Sanfait dove vedo già pronto Jacopo Romeo allora Jacopo buongiorno veniamo subito da te per fare il punto della situazione anche dopo l'amichevole di ieri buongiorno ciao ciao Angela un saluto una buona giornata a parte mia anche a te naturalmente ma anche ai nostri telespettatori sì un amichevole che lascia per Udinese in realtà una sconfitta chiaramente non è il risultato che conta non era quello l'obiettivo principale per i bianconeri resta a mare in bocca per come è arrivata cioè con un calcio di rigore che è un po' stato il light motive soprattutto della seconda parte del finale della scorsa stagione speriamo che insomma ieri con il fallo di mano di Samir il carico venga esaurito nel precampionato e si arrivi ad evitare questi tanti rigori concessi nelle partite ufficiali ma al di là di questo ci sono alcune cose che restano come gli spunti la brillantezza di Nacio Pussetto che è tornato anche al gol ed ha intercettato le parole di elogio di Luca Gotti che non si aspettava un così rapido impatto nuovamente per l'argentino dopo il lungo stop per l'infortunio al ginocchio e quindi questo è un altro fattore molto molto importante a tenere in considerazione un Pussetto che via via è sempre più brillante un Udoie che si conferma anche subito calato molto bene i meccanismi negli schemi è anche edutile addirittura ieri Gotti in un'ampia sperimentazione l'ha utilizzato a destra nel 352 perché ha inserito Makengo da quinto altro ruolo inedito però Makengo ha trovato l'assist per il gol poi nel momento audio e due firmato da Nando Forestieri altra notta dieta perché ha il secondo gol consecutivo dopo quello nel test in famiglia di sabato scorso dunque qualcosa di positivo c'è chiaramente c'è anche qualcosa di negativo perché al di là dell'ingenuità sul rigore abbiamo visto anche tanti errori difensivi anche nei primi due gol l'udinese giustamente anche certificato di essere imballata da un punto di vista di Gambia ma come normale che fosse perché allo Sturm Graz era molto più avanti è molto più avanti la preparazione ha già iniziato il suo campionato ha fatto sei amichevoli insomma è fisiologico che ci sia un gap sotto quel punto di vista e poi anche qualche disattenzione che magari è anche dettata proprio dalla fatica che viene fatta dei bianconeri anche nel corso delle settimane questi gli elementi che lasciano un po' riflettere dopo l'amichevole di ieri amichevole che sarà anche disputata sabato in quel di Lens sarà una partita che i bianconeri andranno a giocare in Francia e dunque vedremo anche lì un ulteriore step ancora una volta l'asticella che si alza per quanto riguarda il livello degli avversari da affrontare visto che i francesi dell'ex bianconeri lo fu fanando scorso sono state una delle sorprese della Ligane e vedremo se ci sarà il debutto in questa prestazione di Gerardo Olofeu che continua a alternare il lavoro individuale ma anche al lavoro in gruppo in ultimi due giorni ha fatto due allenamenti in gruppo e dunque naturalmente lui non ha problemi dal punto di vista clinico fisico si tratta di avere quella condizione giusta per mettere al bando qualsiasi tipo di rischio visto l'anno molto travagliato visto i due anni molto travagliati che ha vissuto l'attaccante spagnolo stamattina e con questo chiudo Angela mezza giornata di stacco di riposo per l'Udinese che tornerà in campo per l'unico allenamento di giornata questo pomeriggio alle 17.30 a te grazie allora Jacopo Romeo per questi aggiornamenti e Jacopo Romeo e anche i colleghi della redazione sportiva che ritroveremo ovviamente nelle prossime edizioni dei nostri TG sempre per gli aggiornamenti dal ritiro dell'Udinese torniamo sulla gazzetta un attimo la vediamo alle mie spalle andiamo a recuperare la pagina in cui si parla appunto di Udinese ecco qua l'articolo sull'amichevole di ieri dei bianconeri Wallace l'Udinese al suo leader e Udoji ha già conquistato Gotti lo Sturm Graz più avanti con la preparazione e Frulani K.O. ma in gara con Pussetto e Forestieri e avversari troppo avanti scrive la gazzetta con la forma fisica e l'Udinese pesante sulle gambe visti i carichi di lavoro intensi di questi giorni carenziani questo ha detto l'amichevole giocata a Sun Fight contro lo Sturm Graz finita 3 a 2 per gli stiriani dopo che i frulani avevano recuperato il doppio svantaggio con Nacio Pussetto e Nando Forestieri e poi tra le note positive di ieri Destini Udoji e il brasiliano in campo per tutti i 90 minuti in questo caso si parla di Wallace è stato il migliore dei suoi per autorità e passo i compagni di squadra lo hanno cercato e chiamato di continuo come riferimento e lui non si è fatto pregare dando peso al recupero l'ex Verona invece ha fatto vedere di non essere solo un prospetto ma uno che può dire già la sua è questo l'articolo della Gazzetta ritorniamo sui quotidiani locali adesso ritorniamo sul Gazzettino e vediamo anche qui le pagine in cui si parla di Udinese con lo Sturm primi segnali dei nuovi bianconeri Pussetto in crescita Udoge prende confidenza mentre Arslan è il metronomo del centrocampo i friulani hanno pagato lo scotto della preparazione mentre lo Sturm Graza ha già iniziato il campionato e poi vediamo le prime righe dell'articolo di Guido Gomirato che dice Gotti ha motivo per essere soddisfatto l'udinese pur sconfitta non ha demeritato per una cinquantina di minuti è stata superiore allo Sturm Graz che milita nel massimo campionato austriaco ha avuto anche il merito di recuperare l'iniziale 0 a 2 ma a parte la sconfitta per 3 a 2 il test è stato superato abbastanza bene visto che di questi tempi i bianconeri sono imballati nel pieno della preparazione e con la rosa non ancora al completo Gotti si è affidato al marchio di fabbrica tattico il 3-5-2 anche se la difesa a 4 è un suo chiodo fisso ma la decisione è rinviata ha dichiarato lo stesso Gotti ai primi di settembre a mercato chiuso e poi l'articolo prosegue raccontando la gara di ieri vediamo il mercato cosa dice l'Atalanta congela l'Amers ipotesi qua me la punta viola accostata anche al club friulano di spalla invece appunto ritornando alla gara di ieri vediamo Gotti sorpreso dal recupero post-infortunio del Nacio il Nacio Pussetto chiudiamo questa pagina del gazzettino chiudiamo anche il gazzettino e torniamo sul messaggero veneto e vediamo anche qui le pagine in cui si parla di Udinese ecco qua la doppia pagina la solita Udinese sbaglia troppi gol e dietro fa regali i bianconeri piacciono sul piano del palleggio e del gioco ma la difesa commette tanti errori lo Sturm Graz ringrazia nel taglio basso le parole di Mr. Gotti Pussetto più avanti di quanto potessi sperare e Nacio Pussetto dice no no fatto ferie Becao un po' affaticato Deulofeu si allena da solo ancora vediamo anche qui la notizia l'Atalanta e Gasperini per adesso non intendono cedere l'Amers si parla anche di Pordenone ora si fa sul serio e il 2 agosto saprà se ci sarà il derby in Coppa Pordenone che nei prossimi giorni sarà impegnato proprio contro l'Atalanta a Brescia in amichevole rimaniamo sui quotidiani locali rimaniamo sul Messaggero Veneto perché come sempre in tema di sport ci sono tante pagine dedicate alle Olimpiadi allora vediamo questa doppia pagina in cui si parla un po' degli atleti nazionali con la Pellegrini che ha disputato la finale senza medaglia Pellegrini io e Matteo adesso finalmente liberi di farci vedere insieme ha detto la Pellegrini Montano l'argento e i saluti sono competitivo ma stop sostituisce l'infortunato Samele ne lasciavo la squadra e trascina i suoi a una medaglia poi però dice ho finito cinque le medaglie olimpiche vinte in carriera un oro due argenti e due bronzi ancora invece passando agli atleti della nostra regione vediamo Matteo Restivo che nelle qualificazioni di ieri non è riuscito a centrare l'obiettivo appunto del passaggio alla fase successiva Restivo saluta le Olimpiadi con il sorriso ventesimo tempo nelle batterie dei 200 d'orso più di così non potevo fare va bene lo stesso ora la tesi in medicina Matteo Restivo saluta le Olimpiadi con il sorriso il nuotatore udinese è stato eliminato dopo le batterie dei 200 d'orso ma torna in Friuli consapevole che nelle sue condizioni non avrebbe potuto fare di più tutte le energie erano state convogliate sul sette colli di Roma di fine giugno per conquistare il pass per un mese ha cercato di mantenere la forma ma a Tokyo non è arrivato nella condizione necessaria per giocarsi un posto tra i primi dieci al mondo non ne fa un dramma al 26enne udinese che ricaricate le pile avrà una tesi in medicina da discutere poi una nuova stagione da preparare in vista degli europei di Roma 2022 a cui non vuole assolutamente mancare e tornando alla scherma a Malisana e conto alla rovescia il sogno è una medaglia di Michela stanotte la Battiston in gara con l'Italia di Sciabola e riserva ma pronta a tirare alla grande papà Stefano mamma Barbara e gli amici di infanzia belli carichi comunque orgogliosi di lei e questo è l'articolo sulla Michela Battiston chiudiamo questa pagina del messaggero veneto e in questi ultimi minuti a nostra disposizione ritorniamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali prima abbiamo visto la gazzetta adesso abbiamo di fronte tutto sport e corriere dello sport allora iniziamo con tutto sport che sul fronte olimpiadi nel taglio alto scrive infiniti dopo cinque olimpiadi Federica Pellegrini annuncia ora la vita con Matteo e Aldo Montano si congeda con l'argento a squadre nella Sciabola e a vediamo anche moto e canottaggio burdisso e quattro senza imprese di bronzo per quanto riguarda anche la box testa Irma testa in semifinale guerriera Irma la prima a medaglia un'impresa senza precedenti vediamo invece l'apertura Trisiuve Allegri aspetta Pianic incontro imminente col sassuolo per Locatelli l'obiettivo è chiudere assalto a Caio Orge può arrivare subito 6 a 0 al Crotone per l'Inter c'è la Noglu nuova luce dell'Inter il Turco firma un gol e tre assist in campo anche Lukaku Vidale dice resto polemica Toro Siriguo a Cairo cosa ha fatto per tenermi il portiere smaschera il presidente facile dire che volevo andare via andiamo anche su il Corriere dello Sport nel taglio alto l'Italia si dà il cambio l'addio di Pellegrini e Montano apre la strada al rinnovamento e poi invece a centropagina per il calcio è una Roma da Champions effetto Murigno parte bene la tournée giallorossa in Portogallo 1 a 1 Mancini firma il vantaggio il Porto si salva all'89 e per l'Inter anche qui l'Inter nel segno di Ciagla e Satriano il turco va in gol regala assist 6 a 0 al Crotone e con questa prima pagina del Corriere dello Sport Stadio noi siamo arrivati al termine della nostra rassegna stampa di oggi giusto il tempo per ricordarvi come sempre con l'aiuto della grafica agli appuntamenti principali di oggi ecco qua il nostro pari in sesto il TG in diretta alle 10 alle 12 alle 16 alle 19 alle 22 e 30 alle 20 e 30 il TG dedicato alle cronache dal Veneto alle 14 e 30 vi proporremo la replica dello speciale del TG andato in onda ieri sera il tema è il Green Pass alle 17 e 30 collegamento con Stand Fight in pomeriggio calcio per l'allenamento del pomeriggio dell'Udinese e poi in prima serata come ogni giovedì c'è il quiz a tutto quiz la quinta edizione con Massimo Campazzo e Alice Mattelloni alle 21 dall'auditorium della Dacia Arena e noi ci fermiamo qui per il momento ci rivediamo più tardi alle 10 buona giornata a tutti e noi ci fermiamo qui a tutti e noi ci fermiamo qui e noi ci fermiamo qui